Ci sarà il temuto sciopero dei medici del 118 in Campania. L'astenzione era stata proclamata dai sindacati di categoria per le indennità aggiuntive e il recupero delle somme percepite in passato dai sanitari. Recupero che le Asla avevano già avviato e che la Regione ha per il momento sospeso. A raffreddare gli animi l'incontro tra le parti tenutosi in Prefettura Napoli con il Prefetto Valentini. Nel corso della riunione anche l'impegno assunto dalla Regione Campania ad avviare un confronto sulla questione con la Corte dei Conti per una soluzione definitiva. Si accoglie e fanno sapere i rappresentanti dei medici di emergenza territoriale del 118 l'invito del Prefetto a sospendere lo sciopero considerate le esigenze legate alla pandemia. Restano comunque lo stato di agitazione e la conferenza stampa sindacale confermata per venerdì prossimo alle ore 12 per illustrare lo stato dell'avvertenza.